L'avete visto tutti il tweet di Caesedo, no? Dopo la partita. Meno male che ero un amichevole. E questo è il problema e la grande differenza fra Lazio e Roma. E questa è la grande differenza. Ciao ragazzi da Vittorio. Torniamo a parlare del derby ovviamente. E anziché la peggella questa volta voglio soffermarvi su una cosa piuttosto semplice e chiara che però è la grande differenza fra i Laziali e i Romanisti. I Romanisti hanno questa brutta abitudine, questa presunzione di parlare sempre prima. Rizzitelli che dopo il pareggio contro l'Inter ha detto che venerdì sarebbe stata un amichevole, che la Roma non ha problemi perché giocare contro i piccoli e la Roma vince sempre, il problema è contro i grandi. No? Ma perché Rizzitelli dice una stupidaggine del genere? Non si parla mai prima. Vi ricordate Nainggolan quando disse a quel tifoso che la Roma avrebbe vinto tutti e due i derby di Coppa Italia? Mai parlare prima. Mai. I campioni non parlano mai prima. I campioni stanno zitti e parlano sul campo. Anche perché così incidi il tuo nemico, il tuo avversario. Avete visto Caisedo, no? Caisedo se l'è segnata la dichiarazione di Rizzitelli. E così come tutti gli altri giocatori della Lazio. Questo spiega anche perché la Lazio ha giocato probabilmente la migliore partita del campionato proprio nel derby contro la Roma. Se sto discorso vale per Fabio Capello. Fabio Capello che dice che la rosa della Roma è migliore della Lazio. Ma per quale assurdo motivo? Ma abbiamo visto, no? Centrocampo della Roma non è la metà di quello della Lazio. La Roma non ha tante opzioni. I bagnez. Ma chi è? No? Eppure Capello ha detto che la Roma ha una rosa più forte e quindi vincerà il derby. Poi c'è Zaniolo che fa quasi un po' pena, no? Perché è un po' stupidotto. È un po' stupidotto. Questa cosa va a Roma e solo la Roma. Fallo dopo che ha vinto il derby. Questi posti Instagram. Non prima. Non si fa. Non si parla prima. I grandi campioni, le grandi squadre non parlano prima. La Juve che vince Scudetti a Raffiga. Prima dei scontri di Rettel mica dicono Ah, vinciamo noi, siamo più forti. No, zitti, zitti e poi festeggiano dopo. Questo è il grande difetto della Roma. Per questo motivo la Roma non vince niente. Perché parlano prima. E invece si deve parlare dopo. La Lazio è una squadra che di solito zitta. Non fa mai digrazioni arroganti. E poi in campo vedi la differenza. La Lazio contro la Roma ha vinto dominando perché si risponde in campo. I veri giocatori rispondono in campo. I romanisti parlano prima. E poi vengono sempre puniti. E questa è la cosa. Zaniolo, Rizzitelli. Sempre a parlare prima. Sempre a parlare prima. Mai. Non stanno mai zitti. Mai. E vengono puniti. E questo è un problema. Questo è un grande difetto. Naingolano, altro grande simbolo della Roma. E poi un'altra cosa che mi preme sottolineare. In questo, diciamo, primi sei mesi del campionato abbiamo letto sulla stampa romana che i Bagnets erano difensori fortissimi. Che Villar è un centrocampista fortissimo. Mkhitaryan un fenomeno. No? Poi vai al derby e i Bagnets viene umiliato per 95 minuti da Lazzari. Villar non si vede. Mkhitaryan si vede solo per un cartellino giallo. E questi sono i fenomeni della Roma. È un altro problema. Perché i giocatori da Roma vengono pompati ad arte dalla stampa. Perché ci sono troppi giornalisti faziosi che i Bagnets è un fenomeno. Quell'altro è il campione. Dall'altra parte, i tifosi della Lazio sono ipercritici. Fino all'altro ieri Lazzari non era degno di giocare il Champions League. E invece Bagnets è un difensore fortissimo. Un clamoroso acquisto dalla Roma. Purtroppo non c'è equilibrio dalla parte della Roma. Non c'è equilibrio. Non c'è equilibrio. E questo è uno dei motivi. Perché la Roma non vince niente e la Lazio invece qualcosa vince. Per cui la Lazio si gode questo derby. Una vittoria importantissima. Perché tre vittorie in fila prima volta che succede in stagione quest'anno e soprattutto la zona Champions si avvicina. La Roma prende una bella mazzata. La Lazio si avvicina alla Roma. Insomma erano derby secondo me importantissimo per la Lazio. Importantissimo per la Lazio che è stata zitta, ha lavorato. Occhi bassi concentrati in allenamenti senza dichiarazioni stupide e però poi si portano a casa i tre punti. Adesso la Lazio festeggia e Fonseca si chiede ma non so perché i miei giocatori non hanno combattuto. Perché hanno festeggiato prima. Semplice così. Ciao alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.